e volevo parlarvi di una cosa importante cioè ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi siamo oberhegan guardate che spettacolo sono in compagnia della mia ragazza come il solito e oggi finalmente proverò kikerem infatti sono gasatissimo adesso andiamo a fare due piste poi ci vediamo in park allora partiamo ciao Grazie a tutti Bomba C'è una neve e oggi è favolosa Favolosa, non ho mai usato questo termine in vita mia Era il momento giusto Io direi il primo girettino di park Non sono ancora caldissimo Però magari un girettino Poi torniamo su dall'altra parte Vediamo Comunque vi sono dimenticato di dire Che ho cambiato il setup alla tavola Ho aperto un po' lo stenso E' proprio di pochissimo Però questo mi dovrebbe aiutare Ad avere una cosciata più profonda Perciò ad attutire meglio le cadute Invece lo spoiler L'ho chiuso un pochino In modo da avere prima contatto con lo scarpone E riuscire a curvare sui talloni meglio E mi sto trovando da dio Forse anche la neve che ha un grip assurdo oggi Però mi sto trovando da dio Eccola qua che arriva Andiamo a casare E perché mi hai fermato davanti al telecamere Ciao ragazzi abbiamo appena mangiato Ma questa parte di video Penso che la vedrete verso l'inizio In modo che venga vista da più gente possibile Perché ci tengo In questo momento io so già Di aver fatto o non aver fatto l'M Attenzione Ma lo vedrete dopo Non ti interessa E volevo parlarvi di una cosa importante Cioè che mi state scrivendo su Instagram Per fare uscite insieme Piuttosto che fare video insieme Vi spiego il problema Che se già ora che ho appena 150 iscritti Poco più Ho già 10 persone da contentare Vi immaginate quando ne avrò tipo 300 Non lo so di più Quando ne avrò mille A mille di milioni di milioni Avrò tipo 100 persone da contentare È improponibile Perciò mi dispiace Ma dico a tutti di no In modo da non fare torto a nessuno Però se mi beccate in montagna Volete salutarmi Magari ci facciamo un paio di piste insieme Quello non c'è nessun problema Però se è contento qualcuno Di quelli che mi hanno scritto su Instagram Secondo me non va bene Perché ho contento tutti o nessuno Detto questo Se il canale crescerà bene Avrò modo di fare qualche raduno Eccetera Lo farò Ma almeno raggruppo tutti In una singola giornata E tu cosa dici al riguardo? Dico che adesso Mi sta Stiamo A parole tue In queste giornate In montagna Stiamo approfittando Per imparare Lui sta un po' Aiutando me Nelle mie difficoltà E lui sta provando A fare le sue cose Le sue I suoi saltoni Tipo l'M Che non sapete ancora Se ho fatto o no Attenzione Guardate il video Pino in fondo Noi lo sappiamo Quindi è anche difficile dire Andiamo tutti insieme Sciamo tutto il giorno A manetta Perché Sta aiutando ancora Io sono un po' lenta Ma sta migliorando Bene Adesso vi lascio il resto del video Mi riprendo da su Abbiamo fatto un paio di giri di park Un po' marci Adesso faccio un altro po' di riscaldamento E quando La rampa dell'M Va alla luce Io sarò lì Adesso è all'ombra Non mi fido tanto Anche perché è la prima volta che lo faccio Bene Vamonos E allora Adesso nevo in voliera Non lo so Mano Hai rotto il cazzo A bomba Siamo Ma perché si vede male? È normale che si vede un po' Allora Siamo pronti Sto per fare il mio primo Kikerem Non so se lo vedete Allora credo sia caduto Ma Ce l'ha fatta Prima Prova Riuscita Oddio Io mi sono incastrata Vediamo se riesco a scendere di qui Ok Scendiamo Vediamo le reazioni a caldo Reazione A caldo Complicato? Sono cazzi miei Ho sbagliato completamente la speed E ho flettato come un babbeo Devo rifarlo E stavolta ci arrivo grosso perché si può prendere velocità tranquillamente È più facile di quello che pensavi? È molto più facile di quello che pensavo È molto più facile di quello che pensavo Ma va a cagare Io sto facendo prove di tavola piatta che sembra stiano riuscendo un po' male Tanto c'è qualche pro Andata Questa volta non può dire niente perché è riuscito molto bene Ho flettato ancora Ero straccuolo Era giusto Ma no No Mi sono spaccato le gambe Io ti ho visto bene Andiamo bene Proprio bene Sempre giusto Se mi vedete appannato Guarda come mi vedono Spero mi vediate perché ci sono le lenti appannate Comunque ho provato due volte l'M E due volte ho flettato Anche se mi sembrava di essere abbastanza veloce Se no sei riuscito a farlo Però comunque dai L'ho fatto e vi assicuro che è quasi come un S grande diciamo Fatelo Anche perché essendo la rampa grande Avete modo di gestire meglio i pesi Tenere il baricentro Con i salti piccoli invece C'è il kicker che è lungo un metro E o siete messi bene o siete messi bene Perciò è quasi più facile diciamo Se non fosse per la grandezza l'M E adesso andiamo a rifacillarci in voliera Qui giù Che bello sarebbe fare fuori pista Andare sui tetti E poi riprovo M Questa volta però arrivo veramente grosso Ma grosso grosso Devo finire sull'L quasi No Ho detto anche prima che arrivavo grosso In realtà ho fatto cagare Bene Ci vediamo tra poco Questa è un'altra Questa è un'altra salutiamo l'elbe, salutiamo il park torna a casa giornata partita un po' sotto tono però anche oggi ho portato a casa qualcosa che è quello l'importante l'ho portato a casa l'emme cioè per me vuol dire tanto magari per voi è una cazzata da fare io però non l'ho mai fatto ho cominciato a saltare l'anno scorso e sono super soddisfatto anche perché non mi sono fatto male adesso facciamo l'ultima tirata per tornare al parcheggio questa volta vi faccio una chiusura un po' diversa in movimento saluta ciao